Una situazione delicata, quella dei precari della ricostruzione che operano nel comune dell'Aquila e negli uffici speciali USRA e USRC. Un esodo verso situazioni lavorative più stabili ha determinato per ora il 30% di calo dei lavoratori. Basti pensare che nel solo comune dell'Aquila da 56 unità si è passate a 42, nell'USRA attualmente ci sono 13 lavoratori dai 25 che erano e nell'USRC 20 dei 25 iniziali, inizialmente erano in totale 106 lavoratori, quindi ben 31 sono andati via e la scadenza dei loro contratti è al 31-12-2020. La CGL dunque chiede la stabilizzazione o quantomeno, avendo un anno di tempo a disposizione, di poter avviare un confronto serio con governo, regione e comuni interessati. Oggi abbiamo saputo che c'è stata appunto questa stabilizzazione del comune dell'Aquila di 12 lavoratori per noi è un primo passo ed è sicuramente una cosa importante che va nella direzione che da anni appunto noi auspichiamo è chiaro che è un primo passo e non è ancora sufficiente rispetto a quelle che sono necessità e dei lavoratori chiaramente ma anche dei servizi che devono trovare una continuità. Fa discutere anche il fatto che non sia stato nominato un sottosegretario con delega alla ricostruzione. Il presidente del Consiglio Conte infatti ha tenuto la delega per sé non rinnovando la fiducia a Vito Crimi.